Fondi dove l'associazione Utopia ha allestito un gazebo in piazza Unità d'Italia per raccogliere fondi in favore della famiglia di Marco Pannone, ricorderete tuttora ricoverato in un ospedale a Londra dopo l'aggressione subita dall'inizio dicembre. L'iniziativa poi verrà ripetuta. Roberto Italiano. L'allestimento di un gazebo in piazza Unità d'Italia nei pressi del castello a Fondi è stato un successo. I giovani dell'associazione Utopia hanno voluto così organizzare una giornata dedicata alla solidarietà per sostenere la famiglia di Marco Pannone, il giovane ricoverato in un ospedale di Londra dopo essere stato aggredito la notte tra il 2 e il 3 dicembre scorsi. Questa iniziativa si è affiancata a quella della Proloco nella raccolta denaro. Domenica scorsa, dalle 10 alle 13, nonostante il tempo tipicamente invernale, sono stati raccolti 401 euro. L'iniziativa verrà ripetuta. Nel frattempo il giovane fondano è stato trasferito in un reparto e non è più in terapia intensiva, facendo così aumentare le speranze di ripresa. I tempi però di recupero saranno certamente lunghi e sia mamma Enza che papà Giuseppe continuano a stare accanto al loro figlio Marco. E questo fin dall'indomani della vile e violenta aggressione. Intanto la Proloco ha aperto i salvadanai collocati in alcuni stand del MOF e attività del centro città di Fondi. Il presidente Gaetano Orticelli ha provveduto ad effettuare un quinto bonifico di 1880 euro in favore di Marco Pannone e dei suoi familiari e la somma totale raccolta arriva così a 11.844 euro.